Oggi propongo Racconto di Natale di Dino Buzzati, contenuto nella raccolta L'Uccisione del Drago e altri racconti, pubblicata da Mondadori nel 1958. Racconto di Natale Tetro e Ogivale è l'antico palazzo dei Vescovi, stillante salnitro dai muri. Rimanerci è un supplizio nelle notti d'inverno e la diacente cattedrale è immensa, a girarla tutta non basta una vita e c'è un tale intrigo di cappelle e sacrestie che dopo secoli di abbandono ne sono rimaste alcune pressoché inesplorate. Che farà la sera di Natale? Ci si domanda. Lo scarno arcivescovo tutto solo mentre la città è in festa? Come potrà vincere la malinconia? Tutti hanno una consolazione. Il bimbo ha il treno e Pinocchio, la sorellina ha la bambola, la mamma ha i figli intorno a sé, il malato una nuova speranza, il vecchio scapolo il compagno di dissipazioni, il carcerato la voce di un altro dalla cella vicina? Come farà l'arcivescovo? Sorrideva lo zelante Don Valentino, segretario di sua eccellenza, udendo la gente parlare così. L'arcivescovo addio la sera di Natale. Inginocchiato, solo soletto, nel mezzo della cattedrale gelida e deserta, a prima vista potrebbe quasi far pena. E invece, se si sapesse, solo soletto non è e non ha neanche freddo né si sente abbandonato. Nella sera di Natale, Dio dilaga nel tempio per l'arcivescovo. Le navate ne rigurgitano letteralmente al punto che le porte stentano a chiudersi. E pur mancando le stufe, fa così caldo che le vecchie bisce bianche si risvegliano nei sepolcri degli storici abati e salgono dagli sfiatatoi dei sotterranei sporgendo gentilmente la testa dalle balaustre dei confessionali. Così quella sera il Duomo, traboccante di Dio, e benché sapesse che non gli competeva, Don Valentino si tratteneva perfino troppo volentieri a disporre l'inginocchiatoio del presule. Altro che alberi, tacchini e vino spumante, questa una sera di Natale. Se non che, in mezzo a questi pensieri, udì battere una porta. Che bussa le porte del Duomo? Si chiese Don Valentino, la sera di Natale. Non hanno ancora pregato abbastanza? Che smania li ha presi? Pur dicendo così, andò ad aprire con una folata di vento e entrò un poverello in cenci. Che quantità di Dio! Esclamò sorridendo costui guardandosi intorno. Che bellezza! Lo si sente perfino da fuori. Monsignore, non me ne potrebbe lasciare un pochino. Pensi, è la sera di Natale. È di Sua Eccellenza l'Arcivescovo, rispose il prete. Serve a lui fra un paio d'ore. Sua Eccellenza fa già la vita di un santo. Non pretenderai mica che adesso rinunci anche a Dio. E poi, io non sono mai stato Monsignore. E anche un pochino, reverendo. Ce n'è tanto. Sua Eccellenza non se ne accorgerebbe nemmeno. Ti ho detto di no. Puoi andare. Il duomo è chiuso al pubblico. E congedò il poverello con un biglietto da cinque lire. Ma come il disgraziato uscì dalla chiesa, nello stesso istante Dio disparve. Sgomento, Don Valentino si guardava intorno, scrutando le volte tenebrose. Dio non c'era neppure lassù. Lo spettacoloso apparato di colonne, statue, baldacchini, altari, catafalchi, candelabri, panneggi. Di solito così misterioso e potente era diventato all'improvviso inospitale e sinistro. E tra un paio d'ore l'Arcivescovo sarebbe disceso. Con orgasmo, Don Valentino succhiuse una delle porte esterne. Guardò nella piazza. Niente. Anche fuori, benché fosse Natale, non c'era traccia di Dio. Dalle mille finestre accese giungevano ecchi di risate, bicchieri infranti, musiche e perfino bestemmie. Non campane, non canti. Don Valentino uscì nella notte. Se ne andò per le strade profane tra fragore di scatenati banchetti. Lui però sapeva l'indirizzo giusto. Quando entrò nella casa, la famiglia amica stava sedendosi a tavola. Tutti si guardavano benevolmente l'un l'altro e intorno ad essi c'era un poco di Dio. Buon Natale, reverendo, disse il capofamiglia. Vuol favorire? Ho fretta amici, rispose lui. Per una mia sbadataggine, il Dio ha abbandonato il Duomo e sua eccellenza tra poco va a pregare. Non mi potete dare il vostro? Tanto voi siete in compagnia, non ne avete un assoluto bisogno. Caro il mio Don Valentino, fece il capofamiglia, lei dimentica, direi, che oggi è Natale. Proprio oggi i miei figli dovrebbero fare a meno di Dio? Mi meraviglio, Don Valentino. E nell'attimo stesso, che l'uomo diceva così, il Dio scusciò fuori dalla stanza, i sorrisi giocondi si spensero e il cappone arrosto sembrò sabbia tra i denti. Via di nuovo allora, nella notte, lungo le strade deserte. Cammina, cammina. Don Valentino, infine, lo rivide. Era giunto alle porte della città ed innanzi a lui si stendeva nel buio, biancheggiando un poco per la neve la grande campagna. Sopra i prati e i filari di Gelsi ondeggiava Dio, come aspettando. Don Valentino cadde in ginocchio. Ma cosa fare, verendo? Gli domandò un contadino. Vuol prendersi un malanno con questo freddo? Guarda ogni Natale viene a benedire i nostri campi. Senti, disse il prete, non me ne potresti dare un poco? In città siamo rimasti senza. Persino le chiese sono vuote. Lasciamene un pochino che l'arcivescovo possa almeno fare un Natale decente. Ma neanche per idea, caro il mio reverendo. Chissà che schifosi peccati avete fatto nella vostra città. Colpa vostra. Arrangiatevi. Sì, è peccato sicuro. Ma chi non pecca? Ma puoi salvare molte anime, figliuolo, solo che tu mi dica di sì. Ne ho abbastanza di salvare la mia, ridacqueò il contadino. E nell'attimo stesso che lo diceva, il Dio si sollevò dai suoi campi e scomparve nel buio. Andò ancora più lontano, cercando. Dio pareva farsi sempre più raro e chi ne possedeva un poco non voleva cederlo. Ma nell'atto stesso che lui rispondeva di no, Dio scompariva, allontanandosi progressivamente. Ecco quindi Don Valentino ai limiti di una vastissima landa. E in fondo, proprio all'orizzonte, risplendeva dolcemente Dio, come una nube oblunga. Il pretino si gettò in ginocchio nella neve. Aspetta, mio signore, supplicava. Per colpa mia l'arcivescovo è rimasto solo e stasera Natale. Aveva i piedi gelati, si incamminò nella nebbia, affondava fino al ginocchio, ogni tanto stramazzava lungo disteso. Quanto avrebbe resistito? Finché udì un coro disteso e patetico, voci d'angelo, un raggio di luce filtrava nella nebbia. Aprì una porticina di legno. Era una grandissima chiesa e nel mezzo, tra pochi lumini, un prete stava pregando. E la chiesa era piena di paradiso. Fratello, gemette Don Valentino, al limite delle forze, irto di ghiaccioli, ha più pietà di me. Il mio arcivescovo, per colpa mia, è rimasto solo e ha bisogno di Dio. Dammene un poco, ti prego. Lentamente si voltò colui che stava pregando. E Don Valentino, riconoscendolo, si fece, se era possibile, ancora più pallido. Buon Natale a te, Don Valentino, esclamò l'arcivescovo facendosi incontro, tutto recinto di Dio. Benedetto ragazzo, ma dove ti eri cacciato? Si può sapere che cosa sei andato a cercare fuori in questa notte da lupi? Il racconto è finito e spero che vi sia piaciuto.